Anche da casa puoi scegliere il tuo futuro, sono Kevin e sono iscritto al terzo anno di chimica e chimica industriale. Ho scelto di iscrivermi all'Insugria perché sapevo di entrare in un ambiente accogliente, contenuto, dove potevo essere seguito al meglio durante il mio percorso formativo da tutti i docenti. La scelta di fare chimica invece l'ho maturata entrando per la prima volta in contatto nel liceo con il mondo dei laboratori, degli esperimenti e in generale del mondo della chimica. Questa cosa mi ha subito affascinato e ho deciso appunto che il mio percorso sarebbe stato quello del chimico.